L'area occupata da questa scuola è alla dimensione superiore ai 200.000 metri quadri, è l'area più grande che possiede città metropolitana per edilità scolastica. E quindi è un'area che si presta a realizzare degli interventi di crescita degli edifici presenti in modo da creare un polo scolastico con una pluralità di indirizzi che si aggiungano a quelli liceali e tecnici che sono già esistenti. L'ipotesi è quella di sfruttare il sedime del vecchio Curie che sarebbe demolito per realizzare una nuova struttura in grado di ospitare sicuramente due indirizzi scolastici. Si pensa degli indirizzi molto specialistici in modo da creare degli spazi che siano particolarmente funzionali rispetto a una didattica più innovativa e un polo centrale con delle attrezzature invece a servizio che servono sia il polo scolastico e sia la collettività con uno sguardo anche al potenziamento dell'area sportiva presente nello stesso complesso.